Ha preso il via ieri sera la diciannovesima edizione del Festival di Cortometraggi Corti da Sogni, Antonio Ricci. Molto positivo riscontro da parte del pubblico che ha riempito la grande sala del Teatro Rasi per assistere alla proiezione dei corti della prima serata. Una sorta di viaggio intorno al mondo attraverso cortometraggi provenienti da Danimarca, Finlandia, Inghilterra, Russia, Turchia, Germania, USA e Cina. A rendere la serata particolarmente piacevole è stata anche la presenza in sala di alcuni registi e autori dei corti proiettati. Antonio Zucconi in arte a Stutiglio Meriglia, sceleggiatore e autore di animazioni, ha presentato il suo ultimo lavoro, Ancora Preti, serie web animata in 24 episodi che sarà proiettata durante tutto il Festival. La prima stagione di Preti ha ottenuto oltre 3 milioni di visualizzazioni sul web. Seconda ospite Luisa Pretolani, verravennata d'origine che oggi vive e lavora a Londra e che ha presentato il cortometraggio The Lift con protagonista uno splendido Ivano Malescotti. Questo film che abbiamo presentato qui oggi, The Lift, è un film sulla solitudine che appartiene ormai a moltissime parti del mondo, cioè è un problema che affligge moltissime persone sia nella parte occidentale che nella parte orientale del mondo, e soprattutto persone che raggiungono una certa età e che non hanno più i familiari o amici vicino a loro per qualsiasi motivo. E quindi Ivano Malescotti ha fatto una rappresentazione di questa idea di solitudine, in più in questo caso con la morte della figlia che si sta per avvicinare, per cui una solitudine ancora maggiore dal fatto che lui deve abbandonare l'ultima speranza che è quella della figlia vicino a lui. È una problematica molto drammatica, è molto difficile da risolvere perché il senso di comunità si sta sciogliendo sempre di più, insomma, e non è solo un fatto di solitudine perché mai uno cerca la solitudine, è un fatto di isolamento, di non avere altri modi di trovarsi con altre persone, e questo è molto drammatico e molto triste. Questo festival è il primo festival che ha proiettato un mio cortometraggio, mi pare fosse il 2001, un cortometraggio che ho fatto io con la mia compagna, è una cosa molto amatoriale, molto basic, però loro l'avevano selezionato, non mi ricordo se in concorso o fuori concorso, comunque io ero felicissimo, mi sentivo come se fossi a Cannes, per cui ogni volta che torno qui sono sempre molto felice. E adesso sono curioso di vedere come le persone in sala reagiranno a questi due video, perché io non ho mai visto una proiezione dal vivo di ancora preti, potrei sbagliarmi, però mi sa che questa forse è la prima volta che vedo come reagisce la sala, sì, quindi sono molto curioso. Il segreto del tuo successo? Qual è stato? Qual è? Questa è facitissima, perché io non ho molto successo, per cui non credo... Tantissime visualizzazioni, sei una star... Che qui a Ravenna mi vogliono molto bene, per cui mi accolgono come se fossi una star, questo infatti è un altro dei motivi per cui mi piace finire a Ravenna, però non si può parlare di successo. Io queste sono cose che ho sempre fatto per divertimento e adesso la scrittura per sceneggiature e le animazioni sono diventate anche un po' il mio lavoro, però non ho nessun segreto, non ho nessun successo. Se mai mi capiterà di avere successo, allora potrò rispondere a questa domanda. Grazie. Grazie. Grazie.